Il labirinto presenta le 5 generazioni con la mostra a terra per corsi d'arte contemporanea. A Palermo dal 18 maggio al 9 giugno 2024, Albergo delle povere. 180 opere di 75 artisti, arricchita dalla performance di Veronica Pecoraino, dallo spettacolo dell'attrice Paola Pace e dal concerto musicale di Dario Sulis. La rassegna si inaugura il 18 maggio all'Albergo delle povere.